Sul fronte della guerra in Ucraina sono in corso negoziati a diversi livelli, c'è il livello della Turchia, quello della Cina, domani il presidente Biden farà una videoconferenza con Xi Jinping, però nel frattempo tra russi e americani, soprattutto in serata, il linguaggio è tutt'altro che diplomatico, ci sono state accuse durissime, Biden ha ripetuto che Putin è un dittatore omicida, quindi lei ci crede che questi negoziati siano in corso e qual è il tavolo negoziale che può sbloccare, cosa può sbloccare la situazione? Io credo che il tavolo negoziale sarà certamente un tavolo fra gli Stati Uniti e la Russia, diretto che sia a livello di Putin e Biden o a livello di interlocutori di secondo livello tipo Lavrov e Blinken, non lo so, ma certamente se si arriverà a un accordo fra i due, l'accordo sarà siglato dai due d'anticause che sono gli Stati Uniti e la Russia. Quindi in realtà è una guerra tra russi e americani? Beh, non lo so, c'è una guerra tra russi e americani, certamente un segnale importante per un altro interlocutore di questa vicenda è l'incontro fra Xi Jinping e Biden. Quello di domani. Perché io credo che Xi Jinping, non tanto perché Xi Jinping possa svolgere effettivamente un ruolo diplomatico in questa vicenda, ma soprattutto perché io credo che Xi Jinping abbia capito che la militarizzazione del dollaro che gli Stati Uniti hanno utilizzato in questa guerra, mentre per la Russia che è un paese relativamente povero e non ha grandi scambi internazionali se non nelle materie prime, per la Cina sarebbe devastante. Scusi, che cosa intende per militarizzazione del dollaro? Beh, guardi, la militarizzazione del dollaro ha tanti aspetti. Uno di questi, per esempio, è l'utilizzo dello SWIFT. Lei sa che lo SWIFT contiene tutte le transazioni finanziarie internazionali. Gli Stati Uniti hanno accesso allo SWIFT, i servizi americani, tant'è che quando nel 2006 il New York Times rivelò che tutte le transazioni dello SWIFT venivano registrate in Virginia e quindi erano a disposizione del governo americano, costrinsero Hillary Clinton e il segretario del Tesoro a fare un giro per gli alleati europei a spiegare perché doveva essere mantenuta questa situazione. Il dollaro è diventato un'arma di guerra? È un'arma di guerra, certamente. È un'arma di guerra che non piace ovviamente ai cinesi. Sì, assolutamente. Lucio Caracciolo. Sì, se posso. Sì. Sì.